Siete pronti? Ma io non lo è E ci siamo, ci siamo Con un trio d'eccezione che viene da Brescia Vero ragazzi? Da Brescia Centro anche Piazza Tebaldo Brugiatto I ragazzi di Brescia I ragazzi di Piazza Tebaldo Brugiatto Yes 40 anni Mi siete ritrovati qua Esatto È lui l'artefice Eh beh, facciamo anche un applauso Bravo Lino Bravo, bravo, bravo E bravi voi che avete accorto la sua richiesta Esatto Esatto Ok, allora diciamo i nomi Erni Lilli Linus Linus è il nostro DJ di fiducia Ok, siete carichi? Speriamo Dai, allora cantiamo E oggi non finiscono L'alba della via Le porto a casa insieme a me Ne faccio melodia E poi mi ritrovo a scrivere Chilometri di lettere Sperando di vederti ancora qui Inutile Parlarmi sai Non capiresti mai Seguirti fino all'alba E poi vedere dove vai Mi sento un po' bambino ma Lo so con te non finirà Il sogno di sentirsi dentro un film E poi all'improvviso Sei arrivata tu Non so chi l'ha deciso Mi hai preso sempre più Una quotidiana guerra Con la razionalità Ma da bene pur che serva Per farmi uscire Come mai Ma chi sarai Per fare questo me Notte intera Ad aspettarti Ad aspettare te Dimmi Come mai Ma chi sarai Per farmi stare qui Qui seduto in una stanza Pregando per un sì Gli amici se sapessero Che sono proprio io Pensare che eravamo Che fossi quasi un dio Perché non mi fermavo mai Nessuna storia inutile Uccidersi d'amore Ma per chi Lo sai all'improvviso Sei arrivata tu Non so chi l'ha deciso Mi hai preso sempre più Una quotidiana guerra E la razionalità Ma da bene pur che serva Per farmi uscire Come mai Ma chi sarai Per fare questo me Notte intera Ad aspettare Ad aspettare te Dimmi come mai Ma chi sarai Per farmi stare qui Qui seduto in una stanza Pregando per un sì Ma dimmi come mai Ma chi sarai Per fare questo me Notte intera Ad aspettare Ad aspettare te Dimmi come mai Ma chi sarai Per fare questo me Qui seduto in una stanza Pregando per un sì Pregando per上ola Per fare questo me Medi come mai Pregando per un sì Sì, 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 signori e signori, abbiamo a mano qui la nostra Lilli, la nostra Erli e lui il nostro Linus, adesso, ciao ragazzi! Grazie!